Secondo incontro formativo a Crotone presso il Marrelli Hospital con i professionisti del Gaslini di Genova patrocinato dalla FIMP provinciale. Condividere l'esperienza dei professionisti dell'Istituto Gaslini insieme ai medici pediatri della provincia è uno degli obiettivi alla base dell'accordo firmato con la struttura crotonese. Nel secondo incontro i professionisti del Gaslini hanno parlato di infezioni e dilatazioni della via urinaria, di distrafismi spinali e di cardiopatie congenite semplici. Quello che noi vorremmo lasciare è una overview di quella che è la nostra competenza, professionalità, una overview di tutte le patologie che vengono trattate in particolare per quanto riguarda il mio campo della neurochirurgia pediatrica del Gaslini che è uno dei più grossi centri diciamo così in Italia di neurochirurgia pediatrica insieme ad altre ovviamente realtà. una delle reparti che hanno per primi iniziato la neurochirurgia pediatrica quindi anche trasferire il nostro supporto al diciamo così ai pazienti che magari afferiranno spero afferiscano qui al Marelli Hospital per poter avere una presa in carico comune su diverse patologie. Ricca la partecipazione anche per questo secondo incontro dei medici pediatri della provincia che con interesse e grande entusiasmo hanno partecipato e posto molte domande ai professionisti colleghi del Gaslini. Il nostro compito è quello di portare innovazione e portare cultura e portare in qualche modo qualcosa che aiuti tutti quanti che sia un supporto reciproco. Chiaramente siamo a disposizione per qualsiasi problema tecnico relativo al paziente ci sia ma quello che dobbiamo diffondere tutti quanti, ognuno per la sua parte, è la cultura e soprattutto la sensazione di dover dare qualcosa ai pazienti e alle persone che hanno bisogno. Iniziative come queste che nascono da sinergie tra pubblico e privato fanno ben sperare che qualcosa in Calabria sta cambiando soprattutto in termini di servizi e di cure dove finalmente si pensa prima di tutto a garantire un servizio efficiente e specialistico in questo caso per i più piccoli pazienti del territorio calabrese nonché a condividere competenze professionali. Una marcia in più che di sicuro garantisce una migliore diagnosi e cura delle varie patologie pediatriche. Siamo arrivati a un buon punto però è chiaro che bisogna un po' allargare un po' gli orizzonti perché stiamo cercando di arrivare anche alla telemedicina quindi alla possibilità praticamente che il pediatra vede il proprio paziente eventualmente con il rapporto appunto con la struttura di igiene riesce a risolvere il problema nel territorio e sul territorio. Grazie.